Patto per l'attuazione della sicurezza urbana, presa d'atto del progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori di implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale che sarà inserito come integrazione al programma triennale lavori pubblici 2018-2020. In pratica il comune di Battipaglia, guidato dalla sindaca Cecilia Francese, intende rafforzare le azioni di contrasto alle forme di illegalità diffuse sul territorio. A tal fine, nel quadro della collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, il comune ha avviato a mezzo dei propri competenti uffici una proficua attività finalizzata da un lato alla regolare manutenzione dell'esistente, seppur limitato impianto di videosorveglianza, e dall'altro alla progettazione di un ampliamento mirato del medesimo impianto, ritenuto strumento indispensabile per una concreta azione di contrasto alle legalità diffusa. Il progetto, varato in giunta comunale ad aprile, ad oggetto Patto per l'attuazione della sicurezza urbana, è stato inviato al Ministero dell'Interno. La scadenza era per fine mese, per la richiesta di ammissione a finanziamento per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale. Grazie